Vediamo insieme alcuni semplici fenomeni elettrostatici e proviamo a capirne il funzionamento. Probabilmente da bambino ti è capitato di giocare con una penna e fregarla su una maglia di lana e vedere che questa attira piccoli pezzettini di carta. Se non l'hai mai fatto, se ancora in tempo è molto semplice, vedrai che funziona con una penna di plastica. Una cosa simile capita con un pettine, dopo averlo usato questo è in grado di attirare pezzettini di carta. Oppure un altro esempio, un palloncino, quelli che si usano alle feste di compleanno, spesso rimane attaccato alle pareti che tocca. Come mai capitano queste cose? In genere si dice perché il pettine o la penna si è caricata, si è caricato elettricamente. Che cosa vuol dire esattamente che si è ricaricato e perché? E soprattutto perché attira la carta la quale è neutra, perché nessuno ha strofinato la carta, nessuno ha agito in qualche modo sulla carta. Per comprendere questo fenomeno utilizziamo questa animazione della PACT. Al posto del pettine abbiamo un palloncino che è sempre fatto di plastica e se non lo strofiniamo e lo avviciniamo a una parete non succede proprio niente, il palloncino rimane lì dove è. Se però strofiniamo il palloncino su una maglia di lana e poi lo avviciniamo alla parete, vedete che questo viene attirato. Appena lo lascia andare si attacca. Per comprendere questo fenomeno dobbiamo ricordare che la materia è fatta di atomi e gli atomi hanno un nucleo che ha carica positiva, che rappresentiamo schematicamente con questi più in rosso. Poi ci sono gli elettroni che hanno carica negativa e rappresentiamo con segno meno. Ora guardate che cosa succede se sfreggo il palloncino di plastica sulla maglia di lana. Vedete il palloncino ha strappato degli elettroni, questo perché la plastica ha una maggiore affinità agli elettroni rispetto alla lana. La plastica è più amica degli elettroni e quindi se freghiamo i due corpi tra di loro la plastica fregherà un po' di elettroni alla lana. Qui dal disegno sembra che li abbia presi tutti, in realtà viene estratta una minima parte ma le forze elettriche sono molto intense e questo è sufficiente. Ora risulta facile capire perché il palloncino viene attratto dalla lana, perché cariche opposte si attraggono, quindi se lo lascio andare vedete che questo va verso la maglia di lana. Più precisamente i materiali possono essere ordinati secondo la cosiddetta serie triboelettrica. Triboelettrica significa che acquista proprietà elettriche per attrito. Allora nella parte alta mettiamo i materiali che tendono facilmente a cedere elettroni, materiali a cui non piacciono gli elettroni e troviamo la pelliccia di coniglio, il vetro, i capelli umani. Mentre nella parte bassa mettiamo i materiali che hanno molta affinità elettronica, che tendono a strappare gli elettroni come la plastica, il PVC, il teflon e gli altri che vedete. Quindi ad esempio se strofiniamo del piombo con la seta, allora il piombo tenderà a cedere elettroni alla seta, però questo passaggio sarà minimo perché i due materiali sono molto vicini tra loro. Se invece freghiamo del vetro con del PVC, allora il fenomeno sarà molto più intenso perché i materiali sono molto lontani tra loro, quindi il vetro tende a cedere molto facilmente gli elettroni e il PVC ad acquisirli molto facilmente. Per questo motivo se abbiamo abiti di cotone è difficile che prendiamo la scossa perché il cotone si colloca all'incirca a metà e quindi a scarse proprietà triboelettriche. Torniamo alla nostra animazione e osserviamo le caratteristiche del palloncino. Potete notare che gli elettroni rimangono fermi nel punto dove sono stati catturati, come se fossero appiccicati. Questo perché il palloncino è fatto di plastica e la plastica è un materiale isolante. Questo significa che gli elettroni non possono muoversi tra i vari atomi, non possono muoversi all'interno del palloncino. Se invece il palloncino fosse stato realizzato con un materiale conduttore, come un metallo, pensate ad esempio a un palloncino fatto con foglie di alluminio, allora nei conduttori gli elettroni possono muoversi all'interno del conduttore e potendosi muovere, dato che si respingono tra loro, perché cariche uguali si respingono, allora si distribuirebbero su tutta la superficie esterna del palloncino. Perché all'esterno? Perché, dato che si respingono, tendono a stare il più lontano possibile gli uni dagli altri, quindi si mettono sull'esterno. Fin qua è tutto abbastanza chiaro, ma la domanda iniziale era perché il palloncino è attratto dalla parete quando la parete non è stata elettrizzata. La parete è neutra, quindi un corpo neutro non dovrebbe essere attratto da un corpo carico. Guardate che cosa succede alla configurazione degli atomi quando avvicino il palloncino. Vedete che gli elettroni si spostano un po' più in là. Guardate, la struttura della parete viene modificata dalla presenza del palloncino. Quindi, quando avvicino il palloncino, dato che le particelle si spostano un po' più in là, si dice che la parete rimane polarizzata, cioè complessivamente è sempre neutra, perché non ha né acquisito né ceduto elettroni. Però è polarizzata, cioè ha una faccia con una prevalenza di cariche positive, quella rivolta verso il palloncino, e un'altra faccia con una prevalenza di cariche negative. Quindi, se io lascio andare il palloncino, la faccia positiva tende a trarre le cariche negative poste sulla sinistra del palloncino, e quindi questo si attacca. Se io lo allontano un po' di più, la parete non è più polarizzata, e quindi il palloncino sarà di nuovo attratto verso la maglia, anche se più lontana. La polarizzazione è un fenomeno tipico degli isolanti, perché i conduttori si caricano per induzione, e ne parleremo in seguito. Questo può sembrare un po' in contraddizione con quello che ho detto prima, cioè che negli isolanti le cariche non si possono spostare. Ma in effetti questa rappresentazione è un pochino una semplificazione, perché la polarizzazione avviene in modo un pochino diverso. Ci sono due tipi di polarizzazione, una per orientamento e una per deformazione. Guardiamo prima quella per orientamento. Le molecole, alcune molecole, sono polari, cioè anche se complessivamente sono neutre, hanno una parte positiva e una parte negativa. Un esempio sono le molecole dell'acqua. Ora, questa figura rappresenta della materia con le molecole polari, ma non polarizzata. Che cosa succede se avvicino una carica negativa, o potrebbe anche essere positiva? Qui a destra ho avvicinato una carica negativa. Succede che tutte le molecole si affacciano con la parte positiva rivolta verso questa carica negativa esterna. E quindi di fatto rimane la superficie verso la carica negativa carica positivamente. Questa parte rimane carica positivamente. Le parti centrali abbiamo dei più e dei meno che si annullano a vicenda e la faccia posteriore rimane carica negativamente. Sempre che l'influenza di questa carica sia abbastanza intensa da arrivare fino in fondo, sennò la carica, diciamo, si crea disordine man mano che ci allontaniamo dalla carica negativa. E questo vale per le molecole polari. Poi abbiamo la polarizzazione per deformazione, che riguarda anche le molecole apolari, cioè le molecole dove la carica positiva è al centro e la carica negativa è distribuita in modo uniforme. Allora, queste vengono polarizzate per deformazione, cioè avvicinando una carica negativa all'esterno la nuvola elettronica si sposta allontanandosi dalla carica negativa. Ma in entrambi i casi la parete verso l'elettrone si carica positivamente, quindi c'è attrazione. Ora proviamo a prendere un secondo palloncino, lo freghiamo anch'esso sulla lana, e vediamo come si comportano i due palloncini. Allora rimuoviamo la parete per non creare troppa confusione. Vedete che entrambi i palloncini sono attratti dalla maglia perché ha carica positiva. Ma i due palloncini si respingono tra loro. Potete notare che non è sempre il panno a caricarsi positivamente. Ad esempio, se freghiamo una bacchetta di vetro su un panno di cotone, allora questa volta sarà il cotone a strappare gli elettroni al vetro. Quindi il vetro si carica positivamente, mentre il cotone si carica negativamente. In questo modo possiamo ottenere una bacchetta di vetro positiva ottenuta fregando del vetro sul cotone, e una bacchetta di plastica negativa ottenuta fregando la plastica, ad esempio sulla lana. E si può vedere come interagiscono. Si può appendere una bacchetta a un filo in grado di ruotare, e si crea quello che si chiama un pendolo di torsione, che è uno strumento estremamente sensibile. E si può vedere che avvicinando il vetro alla plastica le bacchette si attraggono. Invece avvicinando due bacchette di plastica tra loro si respingono. E la stessa cosa capiterebbe se avvicinassimo due bacchette di vetro. Da qui l'idea della carica elettrica, che è stata un'idea dello scienziato e statista e anche scrittore Benjamin Franklin, che ha detto che i corpi posseggono una carica elettrica e ha chiamato carica positiva ciò che si elettrizza come il vetro e carica negativa ciò che si elettrizza come la plastica. All'epoca, siamo intorno al 1750, Franklin credeva che la carica fosse un fluido. Adesso invece sappiamo che la carica è contenuta all'interno di particelle elementari ed è quantizzata. Mi correggo, particelle non per forza elementari, perché il protone non è una particella elementare. Cosa significa che la carica elettrica è quantizzata? Vuol dire che non può variare con continuità, ma ce n'è una quantità minima, che è proprio la carica dell'elettrone, che vale circa meno 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, che è l'unità di misura della carica elettrica nel sistema internazionale. Per cui non si possono avere, ad esempio, meno 1,7 per 10 alla meno 19 coulomb, perché è come se fossero dei granellini di carica elettrica indivisibili. Da meno 1,6 si passa direttamente a meno 3,2. E la carica positiva è quantizzata della stessa quantità, quindi il protone ha carica più 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. E questa è la prima importante proprietà della carica elettrica. La seconda è che la carica si conserva. Cosa significa che si conserva? Vuol dire che all'interno di un sistema chiuso la quantità di carica elettrica totale rimane costante. Se abbiamo più 2 coulomb di carica elettrica e il sistema è isolato, possiamo fare tutte le trasformazioni chimiche che vogliamo, o fisiche, avremo sempre la stessa quantità al passare del tempo. Oggi sappiamo che l'energia si può trasformare in materia, può creare delle particelle, ma anche quando crea delle particelle, se crea una particella con una certa carica elettrica, ne dovrà anche creare un'altra con segno opposto, in modo che la somma sia zero.